Giallo Capini, qualcuno pensava fosse uno scherzo, ma invece lei ha ufficializzato la sua candidatura per la segreteria federale della Lega Nord, perché? Ho seguito un po' quello che è stato anche un invito da parte dell'attuale segretario federale di Maroni, cioè di far sì che siano i giovani, i trentenni, i quarantenni, a farsi parte dirigente di quello che sarà il nuovo corso della Lega, senza rinnegare assolutamente nulla del passato, e quindi vedendo alla fine che anche già l'amico Matteo in qualche modo non ha ancora ufficializzato, come non l'ho ufficializzato io perché va depositata a giorni la candidatura, pensando che siamo nati lo stesso giorno, io sono nato mezz'ora dopo di lui, quindi sono addirittura mezz'ora più giovane di lui, ho pensato, al di là delle battute, che fosse arrivato il momento di presentarsi ad un congresso per portare avanti delle idee che diano anche un segnale che la Lega è un qualcosa di molto più ampio rispetto a quello che è la percezione esterna, anche da un punto di vista geopolitico, e quindi da qui nasce la mia candidatura, che non è un scherzo, è assolutamente seria, come sono sempre stati seri gli impegni che mi sono presi nei confronti di questo movimento, e adesso ce la giocheremo. Un Romagnolo alla guida della Lega Nord, è possibile? Questo è il grande risultato, secondo me, che è riuscito ad ottenere Roberto Maroni, cioè quello di superare i vecchi steccati, le vecchie barriere che anche da un punto di vista culturale erano state messe all'interno del movimento. Questo è anche un segno di vitalità del movimento, è un segno che la classe dirigente non è cresciuta solo nelle sue roccaforti, ma si è estesa, ed è un segnale, ripeto, di apertura ampia sul territorio, su tutto il territorio, chiaramente del nord, alle possibilità che la Lega dà a qualsiasi persona che di buona volontà si voglia impegnare per la guida del movimento.